Già nel passato ho detto che molto spesso noi ereditiamo problematiche di altri, ma c'è un'altra cosa, c'era un pubblico funzionario, il delegato dell'assessore, che chiedeva di poter accedere in un luogo pubblico. Quindi il tema è sempre il bilanciamento dei diritti. Allora la polizia non si è messo l'UBOT col manganello, ha semplicemente accompagnato questo pubblico funzionario che ha richiesto alla forza pubblica di poter in qualche modo esercitare un suo diritto. Mi verrebbe da dire che forse chi si è opposto a chi rappresentava la legge ha posto in essere un comportamento non legittimo, perché i poliziotti non hanno usato violenza, hanno semplicemente accompagnato il delegato dell'assessore. Se a Viminale ci fosse stato un altro ministro, quello precedente per intenderci, sarebbero state molto diverse i toni delle polemiche su questa storia? Ma guardi, io ho passato 15 mesi a provare a spiegare che la polizia non è la polizia salviniana, non è la polizia della mia cara amica e collega Lamorgese, la polizia è un'istituzione del paese, tanto più la teniamo a riparo da queste etichettature, forse facciamo un servizio a tutti.